Alessio, un successo importante su un campo difficile, come commenti la partita di oggi? Sì, sapevamo che non era facile perché la squadra del Come è molto forte, loro hanno una squadra anche per vincere il campionato, hanno giocatori importanti, quindi sapevamo che non era facile e l'abbiamo preparata nel modo giusto, l'abbiamo approcciata nel modo giusto, abbiamo saputo soffrire nei momenti in cui si doveva soffrire, però sono tre punti molto pesanti in un campo difficilissimo. Secondo gol personale in questo campionato è una dedica particolare per questa rete? Sì, visto che l'altra volta la mia ragazza ha detto che ha eccitato tutti tranne me, oggi tocca a lei, quindi lo dedica a lei. E da domani si torna subito al lavoro perché tante partite in un breve arco di tempo e quindi mercoledì si torna in campo contro la Gianna Erminia e quindi non corre prepararsi subito per la prossima sera. Certo, oggi festeggiamo questa bellissima vittoria, però da domani torniamo subito in campo a preparare un'altra partita. Sappiamo che non sarà facile perché abbiamo anche tanti turni infrasettimanali, però abbiamo una nasa ampia e quindi siamo in grado di gestire le fatiche delle partite precedenti.